Il Datejust Acciaio, un simbolo di eleganza e prestigio. Con un design sofisticato e caratteristiche funzionali, il Datejust Acciaio ha catturato l'interesse degli appassionati di orologi. Questo orologio va oltre la sua funzione di misurazione del tempo, rappresentando uno status symbol e un simbolo di tradizione. Il design del Datejust Acciaio è un esempio di eleganza intramontabile. La cassa in acciaio inossidabile, con la sua finitura impeccabile, è il punto focale di questo orologio. La robustezza e la durabilità dell'acciaio inossidabile si fondono con la sua estetica, creando un equilibrio armonioso tra tradizione e modernità. Questo materiale di alta qualità garantisce che l'orologio mantenga la sua bellezza nel tempo, resistendo all'usura e agli agenti atmosferici. Il quadrante del Datejust Acciaio è un esempio di sobrietà e raffinatezza. Il colore neutro e le linee pulite mettono in risalto i marcatori di ore distintivi, che sono una delle caratteristiche più riconoscibili dell'orologio. Questi marcatori sono realizzati con grande precisione, e la scelta dei materiali è basata sulla durabilità e sull'eleganza. Ogni marcatore rappresenta un piccolo capolavoro di artigianato orologero. Uno dei dettagli più iconici dell'orologio è la finestrella per la data posizionata a ore 3. Una delle caratteristiche innovative che hanno reso il Datejust Acciaio unico è la funzione di data automatica. Il Datejust Acciaio è un orologio estremamente versatile. Il suo design classico si adatta perfettamente sia alle occasioni formali che all'abbigliamento quotidiano. Indossarlo durante una cena di gala o in ufficio è altrettanto appropriato. Questa versatilità è il risultato di una progettazione attenta, che equilibra con grazia la tradizione e l'innovazione. È un investimento che supera le generazioni. Un tesoro che passa da padre a figlio, portando con sé la storia di una marca di orologi che ha ridefinito l'arte dell'orologeria di lusso. Ogni volta che qualcuno alza lo sguardo per controllare l'ora su un Datejust Acciaio, sa di indossare molto di più di un semplice orologio. Indossa una tradizione di eccellenza che non conosce tempo.